Diamo lettura del bollettino di oggi partendo, come al solito, dal numero dei guariti. Oggi registriamo 952 guariti in più, numero che porta il totale delle persone guarite a 7.024. Per quanto riguarda l'incremento delle persone attualmente positive di 3.957 persone, il totale attualmente dei positivi è 46.638. Di questi 23.783 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi 3.000 in terapia intensiva, pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi registriamo un numero di deceduti di 651 persone. Un commento sul dato molto semplice, poi dopo darò la parola al Professore Locatelli, i numeri di oggi sono dei numeri minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri in controtendenza. Mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermate nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia, tenere le misure che sono state adottate, rispettare le indicazioni che sono state date anche nei provvedimenti del Governo.